È più pericoloso non vaccinarsi o vaccinarsi? Allora, la paura è normale, nel senso che è come quando io salgo sull'aereo la prima volta, non sono mai stata su un aereo, ho una paura folle di volare, anche se statisticamente è dimostrato che volare sull'aereo è molto meno rischioso di andare in macchina, eppure tutti andiamo in macchina e nessuno pensa alla morte. La stessa cosa con i vaccini, soprattutto perché li introduciamo in un corpo che è sano e che quindi non ha bisogno in quel momento, non si sente in pericolo. Altra cosa è quando io, per esempio, ho un tumore e devo fare una terapia, allora lì con la chemoterapia mi mettono dentro di tutto, io non chiedo niente, perché chiaramente la mia vita è in pericolo in quel momento, io mi sento in pericolo, quindi l'accettanza di questa cosa sconosciuta è molto diversa rispetto a un vaccino dove io mi sento comunque in una situazione in cui sto bene, non ho bisogno in quel momento di nulla. Però i dati parlano chiaro, cioè il rischio di ammalarsi gravemente, di morire di Covid, è molto più alto rispetto a quello di avere una grave complicazione dal vaccino, che comunque rimane un farmaco e comunque può avere gravi effetti collaterali, anche se molto, molto, molto rari. Stiamo parlando di un caso su un milione, stiamo parlando di un caso su centomila, però chiaramente parlando di numeri di milioni di persone che vengono vaccinate, si parla di ottantine, centinaia di persone lo stesso. Contro i 500.000 casi di malattia di Covid, contro i più di 100.000 che in Italia sono morti di Covid, ufficialmente, perché poi i dati non ufficiali sono un'altra cosa. Chi è morto a casa e non ha avuto la diagnosi di Covid, anche quelli vanno messi dentro. Grazie. Grazie.